Chi possiede lunghi capelli sa cosa siano le doppie punte. Molto difficili da pettinare, le punte si presentano secche, rovinando il capello su tutta la lunghezza, finendo per tagliarli. Tutto ciò avviene per diversi fattori. Tinture e decolorazioni, trattamenti termici prolungati, piastra per capelli, basse temperature, il sole è il motivo più comune e la mancata cura dei propri capelli. Ma ogni ragazza desidera avere capelli lunghi e sani. Grazie all'ugello HG Polished potete dimenticare per sempre il problema di doppie punte e capelli danneggiati. Questo nuovo e unico metodo che permette con rapidità e con la massima qualità di rimuovere tutte le doppie punte dei capelli, mantenendoli in tutta la loro lunghezza. La lucidatura elimina da 3 a 10 mm di punte danneggiate per ogni singolo capello. Il nostro ugello è adatto alla maggior parte delle macchine professionali che rendono la qualità di taglio ad angolo retto. Grazie a questo, l'effetto persiste per lungo tempo. Questo nuovo metodo di lucidatura dei capelli è confermata l'efficacia da più di 30.000 parrucchieri, applicandolo con successo nel loro lavoro. L'ugello HG Polished è uno strumento di alta qualità per una massima efficienza nel salone per i vostri clienti.